Anticipazioni della promessa, episodi spagnoli, il commovente addio di Pia a Diego. Nelle prossime puntate emozionanti della promessa, il focus sarà su Pia e il suo adorabile neonato, Diego. La giovane madre, costretta da circostanze difficili, si troverà a dover dire un doloroso addio al suo piccolo per assicurargli un futuro migliore. In un gesto inaspettato, Pia si rivolgerà a Cruz, la Marchesa, per affidare il destino del bambino a chi può garantirgli un avvenire più sicuro. La trama si sviluppa ulteriormente quando Pia, ignara della sua decisione, scopre che Cruz ha rapito il suo prezioso bambino. Durante le puntate spagnole della promessa, il misterioso rapimento di Diego diventa il fulcro della storia, suscitando una serie di momenti toccanti e sconvolgenti. Le domestiche, nel prendersi a turno per badare al piccolo, si troveranno coinvolte in una serie di eventi drammatici che cambieranno il corso della trama. Con il mistero che circonda la scomparsa di Diego, gli spettatori saranno tenuti sulle spine, mentre la storia si dipana tra emozioni travolgenti, rivelazioni scioccanti e colpi di scena inaspettati. Non perdete le prossime emozionanti puntate della promessa, dove il destino di Pia e Diego si intreccerà in un intricato labirinto di segreti e tradimenti. L'improvviso rapimento di Diego scatena immediatamente un'incalzante serie di indagini, con Jana e Manuel in prima linea nella ricerca del neonato scomparso. La disperazione di Pia, privata del suo bambino, raggiunge l'apice fino a quando, grazie agli sforzi congiunti di Jana e Manuel, il piccolo ritorna finalmente tra le braccia della madre ansiosa. In seguito al ritorno di Diego, l'attenzione si sposta sui presunti responsabili dell'atto crudele, con i sospetti che gravitano pesantemente su Feliciano e Petra, le uniche persone apparentemente capaci di compiere un gesto così avvilente. Pia, colma di rabbia e dolore, si scaglia contro Petra, costringendola infine a dimettersi per evitare che il figlio Feliciano venga coinvolto nella vicenda. Tuttavia, Romulo, con la sua saggezza, convince Pia a riflettere più a fondo sulla situazione. L'uomo fa notare che Petra non avrebbe mai preso una decisione così drastica senza essere stata istruita da qualcuno. I sospetti, quindi, si spostano su Cruz, la Marchesa, che sembra essere la mente dietro il rapimento di Diego. Decisa a scoprire la verità, Pia decide di affrontare direttamente Cruz, cercando non solo di comprendere i motivi dietro questo gesto scioccante, ma anche di trovare qualche elemento positivo in una situazione così difficile. La trama si infittisce di tensione, rivelazioni e conflitti, mentre Pia si avventura nel cuore di un mistero intricato, sperando di riportare serenità nella sua vita turbata. Nelle prossime avvincenti puntate spagnole della Promessa, lo scenario si fa ancora più intricato quando Pia, carica di decisioni difficili, prepara i bagagli per far partire il suo adorato Diego. La governante, mossa dalla necessità di garantire un futuro migliore al neonato, si rivolge a Cruz, la Marchesa, con l'accusa diretta di essere la mente dietro al rapimento di Diego. Con coraggio, Pia affronta Cruz, sostenendo che Petra non avrebbe mai compiuto un gesto così crudele senza essere stata istruita da qualcuno. In un confronto teso, Cruz è alla fine costretta a cedere, ammettendo di essere stata coinvolta nella scomparsa di Diego. È in questo momento che Pia decide di invertire le carte in suo favore. Con astuzia, Pia minaccia Cruz di rendere pubblica la sua terribile azione a meno che la Marchesa non garantisca un futuro luminoso ed economicamente stabile per Diego. Di fronte alla prospettiva di uno scandalo imminente, Cruz accetta il ricatto di Pia. La governante, determinata a proteggere il suo bambino, stabilisce un accordo in cui Cruz si impegna a affidare Diego a Beni, la moglie del mugnaio, garantendole un sostegno finanziario adeguato. In questo modo, Pia riesce a trasformare la situazione a suo vantaggio, assicurando che Diego possa crescere in una famiglia amorevole e godere di una vita priva di preoccupazioni finanziarie. La trama si sviluppa in un intreccio di emozioni, intrighi e decisioni coraggiose, mentre i personaggi cercano di affrontare le conseguenze di scelte difficili per il bene del piccolo Diego. Nel prossimo avvincente capitolo della promessa, Pia prende la difficile decisione di separarsi da Diego, il suo adorato bambino, per garantirgli una vita felice e sicura con Beni e suo marito. La governante, carica di emozioni contrastanti, inizia a preparare i bagagli per il piccolo, affrontando il doloroso addio con la speranza che il suo gesto porti a una prospettiva migliore per Diego. Nel frattempo, Cruz, la marchesa coinvolta nel rapimento di Diego, accetta il patto segreto con Pia, promettendo di mantenere il silenzio su ciò che ha fatto. La domestica si impegna a non rivelare nulla a nessuno, consolidando così l'accordo con la madre determinata. Pia, consapevole dell'importanza della discrezione, non condivide la verità nemmeno con i suoi colleghi, mantenendo il segreto in modo rigoroso. La situazione si rivela intrigante e la domanda si pone spontanea. Cosa ne pensate di questa scelta coraggiosa di Pia? Era prevedibile o avvicolto di sorpresa? Vi aspettavate che la storia prendesse questa svolta? E credete che Pia si pentirà della sua decisione nel corso degli eventi futuri? Vi invitiamo a condividere i vostri commenti e le vostre riflessioni su questo sviluppo nella trama. Lasciate le vostre opinioni qui sotto. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere gli aggiornamenti. La storia continua a tessere la sua trama avvincente, e siamo ansiosi di conoscere le vostre opinioni su questo emozionante capitolo della promessa. Grazie, a presto!